Il nucleo di polizia economico-finanziaria della GDF di Milano in un'inchiesta della DDA contro l'Andrangheta ha arrestato 8 persone per associazione per delinquere, finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. Nelle indagini è emerso che una persona inserita in una cosca ha ottenuto contributi a fondo perduto e voleva beneficiare anche dei finanziamenti per le imprese previsti per l'emergenza Covid. Le indagini condotte dal GICO della GDF sulle infiltrazioni della mafia calabrese nell'economia, come spiega il procuratore Francesco Greco in una nota, hanno accertato che il principale indagato, indicato dai collaboratori come inserito nel clan di San Mauro Marchesato, che fa capo a Lino Greco nella provincia di Crotone, ha presentato richieste ed ottenuto per tre delle società inserite nello schema di frode i contributi a fondo perduto, attestando un volume di affari non veritiero e fondato sulle false strutture. Contributi previsti dal Decreto 34 del 19 maggio scorso. Inoltre, si legge ancora, ha tentato di beneficiare anche dei finanziamenti del Decreto Leggio 23 dell'8 aprile, che servono a sostenere il sistema imprenditoriale nella particolare congiuntura economica determinata dall'emergenza sanitaria. Quattro persone sono finite in carcere, quattro ai domiciliari, e sono stati sequestrati beni, tra cui aziende e disponibilità finanziarie, per 7,5 milioni di euro. Perquisizioni in corso in varie regioni e in più la notifica di un avviso di conclusione di indagini a carico di 27 persone. Il clan greco è un'andrina della locale di Cutro e opera anche in Lombardia. L'inchiesta ha svelato una complessa frode dell'IVA nel settore del commercio di acciaio, con fatture false attraverso società Cartiere e Filtro, anche all'estero intestate e prestanome. Le imprese erano di fatto gestite da affiliati al clan che fa capo all'ino greco, una cosca federata a quella di Cutro che fa capo a Grande Aracri, contestato l'autoriciclaggio per mezzo milione di euro attraverso conti anche in Inghilterra e Bulgaria. Riciclaggio di soldi poi inviati anche ai istituti di credito cinesi. C'è anche questo particolare nelle indagini della DDA di Milano, che stamani hanno portato a dottorresti in un blitz contro l'Andrangheta, che puntava pure ad ottenere i fondi destinati alle imprese in crisi per il Covid.